Il tema dell'emergenza da un punto di vista squisitamente finanziario è un tema assolutamente affrontabile visto che è un'area molto piccola della città. Altra cosa è che i tempi, che sono il vero costo per questa città, siano veramente stretti. Io voglio quel viadotto sul Polcevera entro un anno e vorrei che tutta la viabilità ulteriore che stiamo mettendo in campo restasse in servizio della città perché allora da tutta questa disgrazia forse di qua a qualche mese la città potrebbe avere almeno in termini di logistica e viabilità un piccolo beneficio.